Nell'ambito della max inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici nel Terramano spunto a nuovo filoni d'indagine che ieri mattina ha portato agli uomini della finanza del nucleo di polizia economico-finanziare su delega del PM Andrea De Feis nell'ufficio tecnico del comune capoluogo e nella sede del parco della scienza che i finanzieri hanno acquisito documenti utili alle nuove indagini. In questo filone bis è consegnati anche quattro avvisi di garanzia per abuso d'ufficio e falso in concorso a due funzionari del comune al titolare di uno studio di consulenza esterna e al direttore dei lavori di una ditta. Gli atti acquisiti riguardano lavori di somma urgenza effettuati durante la precedente amministrazione nella scuola elementare di risorgimento e la sistemazione di alcune rotonde sempre nel capoluogo. In particolare si tratterebbe di lavori riguardanti l'installazione di impianti di illuminazione. L'obiettivo di investigatori inquirenti è quello di accertare le modalità seguite per l'affidamento dei lavori e la corrispondenza tra interventi eseguiti e pagamenti percepiti. L'indagine che ha portato i finanzieri a tornare ancora nell'ufficio tecnico del municipio nasce da un'altra inchiesta della procura terramana. Su appalti e somma urgenza è nota come appaltopoli. Un'indagine aperta nel 2018 per corruzione, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti a seguito della mole di intercettazioni messe insieme dal procedimento Castrum. In questo caso all'attenzione di inquirenti e investigatori sono finite già decine di gare d'appalto e altrettante procedure di sommorgenza risalenti soprattutto ai periodi delle emergenze terremoto e neve del gennaio 2017. E in questo contesto sono numerosissimi gli atti finiti sotto la lente di ingrandimento dell'autorità giudiziaria nel corso di altrettante acquisizioni disposte nell'ultimo anno negli enti pubblici finora coinvolti che sono la provincia, i comuni di Teramo, Atri e Pineto e i compartimenti Anas di Abruzzo e Molise.